accompagnato da maestra Riccardo Letta e da Livittus Team un grande applauso all'angolo rosso Cimini Gianmarco tre riprese da tre minuti arbitra il signor Raffaele D'Erasmo è la prima ripresa con calma Gianmarco Con calma, già lento. Box! Non te volpi dritti e te muovi. Bravissimo, bravo Gianmarco. Prima sopra, eh. Bravissimo, bravo Gianmarco. Bravissimo, bravo Gianmarco. Bravissimo, bravo Gianmarco. Stop! Gianmarco in protezione, la testa. Box! Bravo, bravo Gianmarco. Bravo, bravo. Stop! Ricordi, torto, dietro e uno, due. Box! Bravo! Bravo! Bravo, c'è l'uno. Adesso, adesso, bravo, ancora, ancora. Anche se la distanza gli temerà troppo, bravo, forti, forti, dito, bravo, 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 bravo. Sì, da sotto, sotto, bravo, bravo, bravo. Fine della prima ripresa. Bravo, 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 bravo. Bravissimo. Guarda il bel direttore, il propiettore è detto. Bravissimo. Ancora voi. Bravo. Bravissimo. Vai Giammar, questo non prendi da tollerà, bravo, bravo, guarda che ha passato a sinistro, è chiuso con le maniali, quando lo stacchi è passato a sinistro, muoviti, 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 mobile, mobile e ci mette destro, bravo! 3 colpi lì! 1, 2, 3! 1, 2, 3! bravo! guarda quel destro lo prende sempre! lo prende sempre! Vintalo! 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 Bravissimo! Spesso ve li fa! Ancora! Muoviti, muoviti! Cambio, bravo! Mobili, mobili, mobili! Sulla punta! E spari i colpi lì! Ok! Va bene! Bravo! 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 Guarda che ha passato a sinistra! La c'è infili bene! Diretto a destra! come stai a fare! Scalotto! 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 Andiamo! Andiamo! Bravissimo! Ancora! Scalotto! Cicci di! Buonasera! No, scalotto! Non stai lì! Mobile! Bravo! Bravo! Bravo così! Stop! Come possiamo così andare a grande! Buonasera! Muoviti Gianmarco, muoviti con le gambe, con le gambe, con il strotto, poi lo finisci a finire il testo, bravo, che diamocino a destra ci va meglio, bravo, ecco quel destra lo confili sempre, bravo, 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 bravo fine della seconda ripresa bravo, 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 bravo bravo Gianmarco, bravo Gianmarco, così, due gembe e tre atto e tre, va, vai, 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 vai tre corti in serie di ritmi, sopra, muoviti, frete che sei allenato Sorte sopra, bravo! Perché cazzo è il testo? Non c'è partita, bravo, bravo! Vai! Ancora, sopra! Bravissimo! Quello sempre è motore! Bravo! Il sinistro sempre, sempre! Il sinistro è sotto! Vai che cammata! Bravissimo! 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 Fai le quante gennaio! Fai le quante gennaio! Vai un'accelerata bene! Fai i detti i colpi! Vai, vai! Bravo! Bravo! Bravissimo! Rispondi bene! Molto bene! Sto a sinistro! Bravo! Due jab! Prima! Asse le mani! Bravo! Bravo! Due jab! Dai, giallù! Bravo! Bravo così! Bravissimo! Bravo! Di meglio! Bravo! Ancora! Ancora! Dai! Bravissimo! Giamman! Bravo! 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 Dai! Vai! Vai! Viva a sinistro! Bravo! cić a sinistro! Bravo! Accelera! Giamman! Che stai più allenato! Bravo! Prendi! 3, 2, 1, 0 Ancora quello Ancora Accelera Accelera Bravo Brava Frec Frec Brava Frec Brava Fini dell'incontro Facciamo un grande applauso a questi Alessio Gimilin 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 E sono un grande applauso Anche all'audio di Gianluca Di Gimilin Gianmarco 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 Io qua Guardiamo Da loro Noi Ci Ci Ci